È una sconfitta amara perché non ce l'aspettavamo, avevamo riagganciato la partita e ci sono stati quei 5-10 minuti che pensavamo di vincerla. Abbiamo fatto un buon primo tempo e non abbiamo sfruttato le occasioni che ci capitano e questo ci dobbiamo lavorare perché ci sono capitate due occasioni in primo tempo che dobbiamo fare gol perché se no dopo le partite vanno a finire male. La cura è cominciare a fare dal primo e cominciare a segnare e se mi capita l'occasione la devo buttare dentro perché anche i compagni hanno tanta fiducia in me e devo dare di più anch'io perché se siamo così è perché anche davanti non segniamo tanto.